La pandemia è in fase discendente nel nostro territorio, lo dicono i numeri del contagio stabili da tempo, grazie anche alla forte campagna vaccinale che c'è stata. Attualmente ci troviamo in una fase che in Toscana è discendente della pandemia, siamo attorno a 200 casi di positività al giorno, considerando che anche per l'effetto Green Pass sono stati fatti 30.000 tamponi, insomma, anche nell'ultima giornata. Abbiamo un tasso di ricoveri che in questa settimana si è ridotto sia per i ricoveri ordinari sia per le terapie intensive. Questo fine settimana sono aperte le prenotazioni per la terza dose e gli over 60, ma non solo, si può prenotare la propria dose a partire da oggi sul sito della regione dedicato. Noi andiamo avanti con la vaccinazione di terza dose che riguarda diversi target di popolazione, riguarda tutti coloro che hanno più di 60 anni e hanno trascorso sei mesi dalla fine del primo ciclo vaccinale, riguarda gli estremamente vulnerabili, riguarda gli operatori sanitari e di interesse sanitario. Tutti i canali sono aperti. Una buona parte degli over 80 aventi diritto hanno già ricevuto la terza dose, mentre la campagna vaccinale prosegue e c'è ancora tempo per coloro che sono rimasti indietro. Colgo l'occasione per fare un appello a tutti coloro che hanno più di 80 anni a mettersi in contatto con il proprio medico di famiglia per prendere l'appuntamento per la terza somministrazione o in alternativa recarsi in una delle farmacie che fanno i vaccini o nei punti di somministrazione delle aziende sanitarie dove gli over 80 possono recarsi anche senza appuntamento.